E' finita! Adesso andiamo a mangiare il gelato? Cosa dici? Allora sono lì! Ciao! Scusami! Guarda io! Ma cosa succede lì? Ci sono dei palloncini come me? No, ci sono dei giochi che non possiamo fare dei giochi che non possiamo fare dei giochi che tutti insieme con i bimbi. Oh, sì! Ciao!